Estate 2024, le fumarole restano una piaga sociale. Questo è il tenore della nota inviata da Affare Verde Vittoria alle autorità competenti nel testo dell'Associazione Evidenza Allarmata, a seguito di tantissime segnalazioni ricevute da cittadini esasperati dal fatto che, tutte le mattine all'albo, la sera all'imbrunire, si materializzano ovunque nella nostra fascia trasformata colonne di fumo denso e nero che ammorbano l'aria. È l'inevitabile conseguenza delle migliaia di tonnellate di plastica dismessa dalle serro dei rifiuti urbani indifferenziati bruciati illegalmente. L'aria, per diverse ore, prosegue a fare verde, diventa acre e irritante e poi lentamente la colonna di nube tossiche si espande fino a dissolversi. In questo fumo scuro e corposo che si spalma e si disperde nell'aria c'è una quantità infinita, prosegue a fare verde, di particelle di diossina, un composto di molecole altamente tossiche sia per l'uomo che per gli animali e per l'ambiente, che si depositano sul suolo inquinandolo. Un territorio così descritto, che produce ogni forma di malattia sociale, può risorgere economicamente e socialmente, può investire sul turismo. Le organizzazioni sindacali di categoria, l'associazionismo, il mondo del volontariato di questa città, hanno sentito l'esigenza di reagire allo stato attuale delle cose, di mettersi in rete, di assumersi una responsabilità che non è solo denunciare, ma anche stimolare le varie istituzioni con proposte, misure e interventi. Non serve più sentirsi persone oneste se poi non si è capaci di reagire alle tante forme di illegalità che stanno ammorbando questo territorio. Fare verde vittoria chiede con forza, con tutte le autorità competenti, in sinergia adottino provvedimenti, anche se gli stessi possano rivelarsi impopolari a discapio di un'economia che in alcuni casi, palesemente, conclude l'associazione, non rispetta nessun criterio di sostenibilità.